Eric Fromm è un grande filosofo della scuola di Francoforte, oltre che un validissimo psicanalista, revisionista del pensiero di Freud. Fromm sostiene che la disobbedienza debba essere considerata un valore, in linea con ciò che negli anni Sessanta sosteniva Don Milani, il quale diceva che l'obbedienza non è più una virtù, pertanto la disobbedienza è un'arma nelle mani dell'uomo civilizzato che si espone, che si oppone alla società repressiva. L'uomo cambia la storia e conquista la sua libertà attraverso i no rivolti alla società repressiva. L'uomo tuttavia ha paura della libertà e si rifugia in quello che Fromm definisce nel suo testo, fuga alla libertà, il conformismo d'automi, conformismo gregario. L'uomo fa parte del gruppo, ne subisce le norme, perde la sua identità e la salute mentale, rinunciando alla libertà. Ed è, tale conformismo, uno dei principali meccanismi di difesa della libertà, appunto descritto in questo libro famoso di Eric Fromm. Gli altri due sono l'aggressività e la distruttività e l'autoritarismo, sostanzialmente. In un altro testo, che si chiama Vero essere, Fromm analizza le due modalità dell'esistenza umana, che sono l'avere e l'essere. Se si vive in base all'avere, l'essenza dell'essere è l'avere, per cui se uno non ha nulla, non è nulla. È l'etica dei consumatori moderni, che si identificano in ciò che hanno. L'etica dell'essere è invece l'etica di Buddha, di Cristo, di Marx. Ed essa pensa all'uomo come libero e indipendente, capace di vivere attivamente le proprie doti e capacità di amare e rinnovarsi. È l'uomo nuovo che fonderà la società dell'essere.